Per voi, testa dritta Andrea, per voi. Andrea! Chiaro di dare una mano sulla testa Andrea. Andrea si comoda? Ecco, devi essere comoda, devi ringrazio, ti respira perché questo numero pura meggiore. Andrea abbiamo annunciato una sfida, una sfida alla legge di gravità. Tu la tua forza la stai facendo. Ora forse bene, Andrea, la palla gialla. Molto bene, e ora la palla rossa, veramente, sono un secondo. Per l'applauso per Andrea, che ci ha provato. Buongiorno, Andrea! Buongiorno, Andrea! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.